Cambio della guardia a Mediaset. La striscia quotidiana affidata a Maurizio Belpietro, in onda su Rete 4 la scorsa stagione, sarà affidata a Barbara Palombelli che manterrà anche la conduzione di Forum e gestirà il programma da Roma. La decisione, salvo colpi di scena, sembra ormai presa. A Mediaset sono convinti che l'ex moglie di Rutelli possa tenere testa a Lily Gruber sulla sette visti i buoni risultati ottenuti da Marcello Vino Nuovo che ha curato la nuova edizione del programma in onda da qualche settimana, dopo la chiusura di Dalla Vostra Parte, e costantemente cresciuto in questi giorni al punto, in un paio di casi, da sfiorare il pareggio con 8 e mezzo. Grazie a tutti.